Buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica Domanda risponde. Oggi parleremo ancora di GPS 2022-2024, cioè dell'aggiornamento delle gradatorie provinciali per le supplenze, in riferimento alla scelta delle sedi delle gradatorie di istituto. Domanda numero 1. Nella domanda GPS si possono inserire le sedi per gli incarichi annuali o solamente quelli per le supplenze brevi? In questa domanda di aggiornamento o trasferimento, nuovo inserimento GPS 2022-2024, non si scelgono le sedi per l'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, ma solamente le 20 scuole per ogni singola gradatoria per le supplenze brevi da gradatorie di istituto. Ecco un tutorial per vedere come compilare la sezione. Vedete, sedi gradatori di istituto, si va su azioni disponibili, inserisci, si sceglie da questo tasto la gradatoria di riferimento, chiaramente per ogni gradatoria si possono inserire 20 scuole. Facciamo solo l'esempio per una di queste, per esempio la A27 matematica e fisica, cliccando su questo tasto entriamo su un'area dove si possono aggiungere le sedi o importare le sedi qualora fossero state inserite per qualche altra classe di concorso. Aggiungiamo per esempio fra i aggiungi sedi ed entriamo in una maschera di questo tipo dove, selezionando uno dei comuni della provincia scelta, per esempio il comune di Varese, in questo caso, andando a scegliere il comune di Varese e facendo cerca, verranno selezionate tutte le scuole del comune di Varese riguardanti dove ci sta la 027, cioè matematica e fisica. Cliccando su questi codici della scuola, dunque selezionandoli così come sto facendo e facendo inserisci, vedrete che vengono inserite un elenco di sedi. Ne abbiamo inserite in particolar modo sette. Rifacendo aggiungi sedi e dunque riproponendo per un altro comune, per esempio quello di Bustazizio, la stessa cosa e selezionando, come vedrete, dalle sette sedi precedenti si aggiungono altre sedi e dunque l'inserimento delle sedi viene via via a consolidarsi. In questo caso ne abbiamo fatte dodici. Passiamo alla seconda. La seconda domanda è la seguente. Nella scelta delle scuole per i gradatori di istituto della scuola dell'infanzia e primaria. È possibile individuare alcune scuole per svolgere supplenze di durata fino a dieci giorni? Sì, è possibile. Solamente per i gradatori di istituto della scuola dell'infanzia e della primaria. È possibile scegliere due circoli e cinque istituti comprensivi in cui accettare anche supplenze brevi della durata inferiore a dieci giorni. Aggiungiamo che in tal caso bisogna essere pronti a prendere servizio quasi immediatamente, cioè entro e non oltre le dodici ore successive all'accettazione. Vediamo come si compila questa sezione riferita alla primaria o all'infanzia. Andando su sedi gradatori di istituto e scegliendo il riferimento per esempio scuola primaria, perché vale solo per la primaria dell'infanzia quello della scelta di queste sette tipologie di supplenze brevissime fino a massimo dieci giorni, facendo così andiamo ad aggiungere le sedi e scegliendo per esempio le sedi del comune di Varese andiamo questa volta a scegliere sedi riferite alla scuola primaria. Ecco che ad esempio abbiamo degli istituti comprensivi, selezionandoli andremo a inserire questa volta questi termini. vedete questa colonna supplenze fino a dieci giorni? Ecco voi potete dare risposta sì oppure lasciare il no, se volete in questo tipo di istituto svolgere per esempio supplenze anche brevissime fino a dieci giorni, facendo così oppure facendo così o ancora così e sono tre, quattro e massimo cinque, ecco questo è così avete selezionato il massimo degli istituti comprensivi per svolgere questa tipologia di supplenze breve. Passiamo ora alla terza domanda. Se si rinuncia a una supplenza breve dalla gradatore di istituto, a quale sanzione si va incontro? Ebbene la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento su posto comune comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze con riferimento al relativo anno scolastico dalla specifica gradatoria di istituto, sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Speriamo che questo video, queste informazioni, queste risposte siano utili ai nostri telespettatori. Seguiteci ancora perché andremo fino al 31 maggio a parlare anche proprio specificatamente di GPS. Arrivederci a tutti e alla prossima puntata.